assurdo veramente veramente assurdo quello che mi è successo sono mesi che non porto più contenuti sul canale chi se n'è accorto chi non se n'è accorto non lo so comunque vabbè a parte le battute io dal 15 di aprile più o meno 5 dal 15 di aprile sono senza casa cioè allora sono rimasto senza casa senza auto senza telefono senza internet zero zero perso tutto allora vi spiego com'è andato intanto vi saluto buongiorno e buonasera a tutti sì non facciamo l'intro solita perché comunque è un argomento serio questo è un video sfogo per informarvi di quello che mi è successo e per dirvi che sto ritornando allora la situazione è questa negli ultimi video quelli dello scudetto della juve le ultime partite così ero a casa di mio nonno ve l'avevo detto a chi non ci aveva fatto caso chi non l'ha visto praticamente io vivevo in provincia di salerno poi per vicissitudini familiari e altre cose che non vi sto a spiegare ci siamo trasferiti qui in lombardia in provincia di como però non avevamo una casa avevamo trovato soltanto qualche lavoretto quindi siamo venuti qui e ospiti dal mio nonno ovviamente lì non c'era connessione internet quindi usavo il hotspot del telefono per per giocare comunque con l'xbox per farvi quei video che avete visto anche il pacco opening per i tots e poi alla fine comunque i giga sono pochi lì non prendeva neanche bene non potevo registrare poi ho trovato casa finalmente circa tre mesi fa e cosa è successo mi ho trovato la casa ma io è come se non avessi una casa perché non so se vedete questo è un lenzuolo che ho messo qui per coprire delle scatole o ancora un paravento va bene c'è il mio il mio calendario delle 500 va bene questo è un altro discorso questa sarebbe la mia stanza sarebbe uso il condizionale perché la stanza non c'è sono tre mesi che io vivo in questa casa ma non ho una stanza perché abbiamo dovuto prendere una casa così la prima che ci andasse tra virgolette bene comunque sono in una zona tranquilla però comunque non ho una cameretta mia sorella ha uno sgabuzzino praticamente e io sono rimasto senza perché comunque non avendo neanche il letto io non ho neanche il letto pensate e me lo devono dare comunque devo costruire una parete di cartongesso praticamente devo costruirmi la mia camera la mia stanza però comunque ci vuole il suo tempo perché i soldi sono quelli che sono poi comunque questa sarà la mia location per le per i prossimi video quando diventerà la mia stanza effettiva praticamente cominceremo con i video giusti perché per il secondo motivo perché ho finalmente internet sia l'ho data la team che è stata l'unica che mi ha lasciato la connessione qui in casa perché eolo ho provato c'era una bella offerta mi dava anche in regalo un anno di xbox live gold e ci ho provato ovviamente avevo la 100 mega però qui o il tecnico non c'era voglia di lavorare o comunque non passa alla linea team finalmente mi ha messo non una fibra però comunque la 100 mega quindi ho visto già che è molto buona per gli streaming per giocare è perfetta poi sono rimasto senza telefono quello con cui sto registrando adesso è il telefono nuovo l'ho comprato da 5 giorni sì oggi è domenica non so quando posterò questo video magari subito stasera o domani che è lunedì magari domani pomeriggio martedì scorso sono andato a comprare questo telefono perché avevo messo da parte i soldi però non usciva il modello adesso è uscito ho preso uno Xiaomi mi dicono che si dice così un Mi A2 4 giga di ram 64 giga di di memoria interna un buonissimo telefono infatti video in 1080 o in 4k poi su youtube non so come come verranno questa è proprio la prima prova e poi veniamo alla parte allora diciamo senza casa ok però comunque dormire e mangiare ci siamo arrangiati senza la stanza io dormo sul divano da tre mesi ma comunque non c'è problema perché dormo riesco a dormire ho una casa e tutto quanto senza telefono perché mi si era rotto quell'altro però arrangiandosi comunque riuscivo perché praticamente non funzionava bene non è che si è rotto completamente però perdeva la linea ogni tanto dovevo riavviarlo e comunque quando c'era la linea lo potevo utilizzare ma sono rimasto senza macchina ragazzi senza macchina per uno come me scusate per uno come me che di lavoro fa il fattorino cioè io consegno con la mia macchina rimanere senza macchina è un dramma praticamente rimango senza macchina non per colpa mia è quello il problema quando dici vabbè hai fatto un incidente ti hanno ritirato la patente hai preso una multa te l'hanno sequestrata no io non ho fatto niente ma l'assicurazione scaduta sono andato per rinnovarla io pagavo ho una piccola 500 è una Fiat 500 degli anni 90 poi ve la farò vedere qualche giorno farò qualche video dedicato pagavo 270 euro all'anno di assicurazione quanto devi pagare per una macchina del genere no io per il fatto che mi sono trasferito giù a Salerno ma per qualche mese cioè non è che uno dice vabbè sei stato lì anni e anni stato lì qualche mese però io giustamente onestamente ho richiesto la residenza ma quando mai l'ho fatto perché perché adesso quando a giugno mi è scaduta l'assicurazione pur essendo residente qui telematicamente io ero residente ancora lì a Salerno e quindi mi è arrivata il preventivo nuovo invece che 270 euro 500 euro di assicurazione la pagare a parte che non ce li avevo ma anche ce li avesse avuti non li avrei mai dati perché non era giusto secondo me perché io sono residente qui in Lombardia devo pagare poi non ho mai fatto incidenti non ho mai provocato niente ho sempre pagato giusto perché devo smenarci io solo per la residenza cioè dovrebbe essere l'assicurazione per persona per come si comporta la guida e invece no questo è stato Genial Lloyd non ho problemi a dirlo tanto anche loro lo stanno che hanno fatto questa stupidata qui Genial Lloyd non c'è stato niente da fare il preventivo è scaduto quindi facendone un altro la promozione che avevo prima è andata a farsi friggere ho aspettato che arrivasse la residenza ma ora che abbiamo fatto il contratto di affitto non arrivava mai sto contratto di affitto e quando è arrivato non arrivava la residenza alla fine mi è arrivata la residenza ho fatto un preventivo su facile.it secucio.it e alla fine praticamente ci sono state delle assicurazioni che facevano dei preventivi tipo 240 euro perfetto ancora meno di quanto pagavo prima vai a confermare ti chiedono la residenza certificato di residenza il libretto della macchina giustamente lo stato di famiglia e quanti peli c'hai sulle braccia oh ma ragazzi ma un'assicurazione devo fare alla fine confermavi tutto dopo una settimana ti arrivava la risposta la risposta era ok i tuoi dati sono confermati però il preventivo è di 600 euro ma se era 240 ma scusa cioè assurda veramente assurda questa cosa e così è stato per Berti e Zurich che mi hanno fatto questi questi scherzi qui alla fine sono andato con Genertel che mi faceva un'offerta alta perché comunque io pagavo 270 mi ha fatto un'offerta di 388 quindi 120 euro in più alla fine 120 euro in più però nel giro di due giorni tempo che io anzi un giorno tempo che io ho inviato i documenti non hanno voluto neanche il certificato di residenza perché io telematicamente sono adesso ormai residente qui in Lombardia mi è arrivato il preventivo confermato ho pagato 388 è stato quello quindi finalmente sono riuscito a fare l'assicurazione ovviamente la macchina è stata due mesi e mezzo ferma non parte più vabbè comunque ho capito il problema quale sto risolvendo in questi giorni però comunque capite che è stata un'odissea veramente un'odissea stare così adesso devo risolvere anche questo problema dalla stanza quando ho risolto quello poi alla fine vedrete questa questa location qui che cambierà ovviamente qua non ci saranno più gli scatoloni non ci sarà più questo lenzuolo brutto schifoso che però ho voluto mettere perché veramente gli scatoloni non si potevano vedere comunque più o meno l'inquadratura sarà questa per i prossimi video e finalmente ho una webcam che però non metterò sul pc perché il pc è ancora quello quindi un altro problema che si è presentato cioè che non è che si è presentato che ritorna praticamente è sempre quello che il pc è limitatissimo infatti nei video che avete visto sicuramente l'audio che va fuori sincro con il video da un certo punto in poi perché comunque quando renderizza non ce la fa veramente non ce la fa comunque la webcam la metto l'ho messa l'ho già provata e funziona bene ho preso una microsoft livecam 3000 che fa il video in 720p in hd quindi per essere una facecam da mettere sull'angolino a destra o a sinistra o in basso dipende dal gioco l'ho praticamente attaccata all'xbox quindi io quando andrò a registrare il gameplay sull'xbox sarà già inclusa la facecam nel gameplay quindi io non dovrò andare a montare la facecam insieme al gioco in post produzione praticamente che linguaggio aulico vabbè comunque sarà già integrata quindi io dovrò solo tagliare il video e mettere l'intro e l'outro poi la musica se ci sarà qualcosa da mettere per il momento mi limiterò in queste cose perché comunque il computer non ce la fa quando prenderò un pc che sia buono allora sì vedrete degli montare perché poi a me piace anche montare editare i video quindi vedrete tutto tutto questo che cosa faremo successivamente dopo che uscirà questo video io spero di poter fare un video subito dopo partiremo con l'ultimo spacchettamento su fifa 18 perché tanto ormai il gioco è finito ho 70.000 crediti poi domani che è lunedì riscatterò i premi delle squad battles che ne ho fatte qualcuno ho fatto oro tre euro due ho fatto sei o sette partite ormai non ci gioca più nessuno arrivi subito a oro due quindi riscatteremo quel quel premio e praticamente tutti i credit che dovrebbero essere 13.000 quindi andremo a 85.000 più o meno potremmo aprire 12 pacchetti da 7.500 tranquillamente con i crediti tanto è solo una cosa così proprio per finire in bellezza fifa 18 poi quando uscirà la demo di fifa 19 andremo subito con una partita di prova faremo una partita di prova con con la demo di fifa 19 e tenetevi forte perché quando uscirà ufficialmente fifa 19 ci butteremo a capofitto su carriera allenatore che mi scuso perché non l'ho finita ovviamente non l'ho finita neanche la prima stagione ma per i problemi che che vi ho appena elencato non ho potuto finirla faremo la carriera allenatore faremo foot e su foot faremo un sacco di roba perché attenzione io ho preordinato fifa 19 da media world a 49 euro invece che 70 quindi avendo un budget di 70 euro avrete già capito dove voglio arrivare avendo un budget di 70 euro per il gioco ne ho spesi 50 me ne rimangono 20 quindi la prima cosa che farò su foot 19 sarà aprire dei pacchetti con i fifa points mai fatto in vita mia non credo che lo rifarò mai più a meno che non non arrivino altre offerte quando uscirà fifa 20 che tipo lo prendo a 50 euro lo rifaccio di nuovo però avremo 20 euro di fifa points da aprire quindi potremo farci dei crediti subito poi sto seguendo foot street per la compravendita mi sto facendo una bella cultura sulla compravendita quindi su foot faremo la road to da road to division one e che poi non c'è più la divisione perché su fifa hanno cambiato un po' di cose faremo la weekend league faremo un po' di live e vedrete che sarà una una bella cosa su fifa poi quando usciranno altri giochi porterò anche altri giochi magari dipende forza horizon 4 ancora devo finire il 3 però giustamente non ho fatto in tempo a finirlo e poi faremo i post partita delle partite post partita delle partite giustamente qualche live reaction faremo di tutto calcio e videogiochi quindi state sintonizzati e vediamo se riesco subito domani che è lunedì a fare il primo video di fifa cioè l'ultimo video di fifa 18 il primo video ufficiale dalla nuova casa con le nuove impostazioni comunque fatemi sapere con un commento se avete seguito il video fino a qui siete dei temerari perché veramente vi ho annoiato a morte sicuramente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della mia situazione di quello che mi è successo perché è veramente paradossale è assurdo lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo a un prossimo video un saluto a tutti da asurdo grazie a tutti